Un mese dopo, il 9 dicembre, poi siamo andati ad Hamburgo, quando era anche un po' più chiaro che rimanevano aperte le frontiere. Siamo andati lì, abbiamo anche percepito questi cento marchi di soldi di benvenuto che erano previsti per i tedeschi dell'est che entravano all'ovest, che era una bella cosa. Io mi ricordo benissimo cosa ho comprato, ho comprato, perché ero sempre un po' un fan di tutto quello che era inglese, ho comprato una piantina di Londra, che ho anche usato fino al 2016 o 2017, quando purtroppo l'ho perso a Londra, e ho comprato un vinile del gruppo che all'epoca mi piaceva molto, Erasure, che era appena uscito, si chiamava Wild. La nuova libertà, che ovviamente a me andava bene perché mi ha aperto tanto porte, ma già per quelli che avevano due, tre, quattro anni più di me, per loro la loro strada era già così segnata dal sistema, che per loro era molto più difficile adattarsi, trovare, cambiare. Anche bisogna pensare che parliamo degli anni Ottanta, quando non era ancora come oggi, che sappiamo tutti che la professione con la quale iniziamo non è molto probabile che la viviamo fino alla pensione. Quindi ci sono tanti destini anche che hanno cambiato in questo periodo. Io, per me, era proprio la più bella cosa che poteva succedere. Non sarei mai andato in Italia, non sarei mai andato in Inghilterra, perché non c'era neanche la minima speranza di mai poter vedere questi paesi. Adesso mi trovo a New York City, che sicuramente 30 anni fa non c'era neanche la minima speranza di vederla mai. Vivo in Italia da 21 anni, ero sempre appassionato di tutte le cose italiane e inglesi, la lingua, la letteratura, l'architettura, l'arte, tutto quanto, la musica ovviamente. Ricordo con una grande gioia, non ho mai celebrato quest'anniversario, ma quest'anno proprio ci penso molto. Ci sono usciti vari film molto interessanti, non parlo solo dei film vecchi come Goodbye Lenin o La vita degli altri, che ovviamente sono documenti storici in cui mi ci ritrovo molto. Non sono, anche se il Goodbye Lenin è un po' più sul lato umoristico, ma La vita degli altri è quasi un documentario. Ma ci sono anche usciti ultimamente dei film come Il prezzo della libertà, The price of the Freiheit, uscito ultimamente nella televisione tedesca. Questo sicuramente fa vedere altri lati della Germania dell'Est molto interessanti, di un sistema, del crollo di un sistema, non solo l'accoduto di un muro, la voglia, la grande forza di un popolo di liberarsi. Mi ricordo il 6 ottobre, quindi la sera prima del quarantesimo compleanno, cioè l'anniversario della fondazione della DDR, dell'Ender, siamo stati chiamati, come la gioventù della Germania dell'Est, siamo stati chiamati a Berlino per celebrare, proprio per la gioventù, per celebrare questo anniversario. Il giorno successivo sarebbero state le celebrazioni ufficiali e quindi c'erano tutti quanti lì, Jaruzelski, Gorbaciov, Fidel Castro, Tito, tutti i leader dei paesi dell'Est. E quella sera c'era una marcia, una manifestazione con le torce, attraversando Berlino-Est, con questi leader proprio in una fila davanti a questo stazio per di Berlino. E mi ricordo benissimo questa immagine, l'ultima immagine veramente di vederli tutti quanti, intanto dal vivo e poi anche vederli tutti quanti insieme. Il giorno dopo festeggiamenti ufficiali e un mese dopo il crollo totale del sistema. Cosa estremamente interessante, un periodo da studiare proprio, e so già che viene studiato, ma avendolo vissuto mi ha dato una forza, anche un interesse forte nella storia del ventunesimo secolo di tutti questi paesi. Sono i miei pensieri che mi hanno chiesto di condividere con voi, chiunque lo veda questo piccolo video. Guardate questi film, informatevi un po' di questo periodo, e apprezzate la libertà. Io veramente, grazie a questa esperienza, devo dire apprezzo in modo neanche esprimibile la libertà che ho guadagnato attraverso questi eventi di quei giorni, quelle settimane, e la libertà che mi è stata data per vivere una vita sicuramente completamente diversa oggi. Vi saluto e vi auguro dei festeggiamenti, se volete festeggiare, e magari spero che ci vedremo prossimamente al Teatro Reggio di Torino per una delle bellissime opera che abbiamo in programma questa stagione. A presto, buona serata!